Ho preparato pure una scenetta, insomma. Tengo da parte pure lo sfumante frotisia, come le grandi occasioni, sai. Ah, una scenetta? Ma tu gli gnocchi come li fai? Come li devo da fa'? Con le mani? Ah, allora non è il caso, sarà appena un'altra volta. Mi dispiace, ciao. Non so, ho capito il fatto degli gnocchi. I gnocchi poi li ho fatti io personalmente. Con chi li hai fatti, signor? Beh, con le mani, si capisce. Ah, beh. Sapete cosa facciamo stasera?